Quindi il portiere Bettineschi che lascia il terreno di gioco in questo istante, l'arbitro non ha avuto esitazioni, ha tirato fuori il cartellino rosso dopo che evidentemente Bettineschi ha rivolto qualche apprezzamento poco gradevole, incredibile questa scelta quando siamo quasi alla fine del primo tempo fuori Bettineschi, lo vedete, lascia il terreno di gioco, espulsa dalla direttora di Gara al suo posto, ora Pini in campo con una giocazice che dovrà essere sostituita momento certamente importante della sfida, eccola qua Pini che sta per entrare sul terreno